we bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video io sono xyuder e ragazzi con l'arrivo della patch 12.40 abbiamo anche una nuova sfida da fare degli orsi sembrerebbe che bisogna entrare nel bunker della casa quella situata nel quadrato c5 e allora ragazzi entriamo la casa quella dove ci sono in poche parole gli orsi in gabbia scendiamo sotto con una difficoltà notevole direi spariamo agli ieti e una volta che andiamo qua che dobbiamo fa non dobbiamo fare niente raga ma siamo sicuri che c'è da fare con la missione ma l'ho già fatta raga quella degli orsi ma l'ho già fatta quella degli olo già ma lei che abbiamo già fatta quella degli orsi nella gabbia ma dov'è la gabbia ma non ci sono orsi in gabbia a eccola qua ragazzi salva gli orsi e come vedete ragazzi libertà una volta che si scende qua sotto si libera l'orso 15.000 punti esperienza e noi completiamo ragazzi quindi missione degli orsi fatta io vi ringrazio per aver guardato questo video mi raccomando un bel like iscrivetevi al canale e io sono adesso in live su twitch ciao